Allora vieni Hai un pezzo di tarpa? Sì Qui non si può fumare Strano Allora Eh non so Da dove cominciamo Alcune note biografiche le ho già lette L'Italia comincia nel 74 76 76 come pittura E ho visto Se tu usi quel pezzettino sopra Sì Cioè è lì che è una specie di sintesi Quella della mia attività Perché senza star a mettere la fotomostra qua e la Sì sì no no volevo fare una cosa molto libera Anche perché quella roba lì poi la portiamo nella mostra Facciamo delle fotocopie La leghiamo La mettiamo da qualche parte In modo che poi ognuno legga le note biografiche eccetera eccetera Ah ma comunque si può mettere lì Comunque lì le note biografiche sono lì Si tratta forse di vedere questo sticker ma io ti avevo messo Ecco mi interessava prima di parlare di questo caso qua Proprio di capire il tipo di lavoro che tu stai facendo Definire un po' il tipo di lavoro che tu stai facendo Ti spiego La gente ancora legata io per esempio Ho una specie di rifiuto per le immagini pubblicitarie, televisive eccetera eccetera Vado a cercare le immagini a quali sono più affezionato Quelle della natura, quelle delle cose così no E quindi poi vai a ricercarle queste immagini poi anche nell'arte no Perché ci vuole bisogna atturarsi il naso per entrare dentro nelle immagini Della così di questa rarefazione diciamo così di fine secolo no A me sembra invece che tu faccia un discorso unicamente opposto Quello mi interessa Sei un osservatore molto attento delle immagini che appaiono sui giornali, a televisione, tutto eccetera eccetera no E come è cominciato questo discorso? No, imitandoci a Stickerman no Cioè senza divagare troppo Stickerman è un progetto collettivo no Di critica se vogliamo in qualche modo Di diversa proposizione non solo di critica ma anche di riproposizione Di un uso più creativo e meno legato alla messificazione Di quello che è un media, un mezzo Più o meno utilizzato solo per la pubblicità In questo caso viene utilizzato per delle provocazioni Per dei giochi insomma con quello che può essere il lettore di questi messaggi Che vengono veicolate attraverso degli adesivi Quindi si è partiti da un mezzo Un mezzo che è l'adesivo Che viene normalmente quasi sempre utilizzato soltanto per la pubblicità E vediamo cosa è già successo Da cui c'è poi stato lo Stickerman Museo Cos'è già successo in campo creativo Attraverso l'uso degli adesivi Quindi in campo creativo si intende Non solo appunto né a livello pubblicitario né a livello grafico Ma a livello più alto artistico Quindi di messaggi decondizionati E decondizionati da un uso mercantino Comunque in cui ci sia un qualsiasi tipo di committenza Insomma un qualsiasi tipo di legame Quindi comunicazione pura tra l'artista O gli artisti in questo caso E quelli che possono in qualche modo venire a contatto Da che considerazioni si è partito? Io sono partito per creare Stickerman Stickerman viene prima di Utelbase Sì sì viene prima di Utelbase Allora innanzitutto c'è un percorso Siamo che anni insomma nel 92 Nel 91 Allora ormai fa parte del mio percorso artistico Nel 91 di vent'anni L'uso dei nomi multipli Quindi dall'80 Io usavo il nome Mind Invaders Che era un nome di un gruppo inesistente Mind Invaders Anche questo oltre alla facilità di comprensione C'è gli invasori mentali Che poi è stato ripreso recentemente Da Luther Blissett Anche in Inghilterra Ha fatto dei libri intitolando The Mind Invaders Ma nell'80 Quando è nato questo gruppo Aveva un legame con l'attualità Di allora Che Cioè bisogna riportarsi a quel tempo Sono i primi videogames I primi videogames Uno di questi videogames Che ha avuto molto successo Si chiamava Space Invaders I primissimi videogames Che erano Cioè Quegli spara 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 Insomma Cioè In cui c'erano i marzianini O gli invasori Che calavano dal lato E tu li dovevi distruggere Se non distruggiavano te Insomma Da cui Mind Invaders Cioè Gli invasori della mente Che sono poi Normalmente considerati I pubblicitari Quindi Da Mind Invaders Che era un gruppo musicale Che non doveva mai produrre Neanche una nota di musica Cioè Ma doveva produrre Soltanto la propria immagine Quindi praticamente Solo fumo E niente rosto Ma c'è molta ironia dentro Sì Beh logicamente Insomma Poi c'era Si Era formato Ironia e provocazioni Si Ma serviva un po' Fa riflettere anche sul Non so Sul fatto che i gruppi Di musica Rock, pop Disco music Eccetera Sostanzialmente Danno molta più importanza A tutti Tutto il sistema Della musica Dà molta più importanza Al look All'immagine Quindi che non Poi a cosa viene prodotto Quindi Era solo un'esasperazione Di quello che poi succede In realtà Cioè Non è che ci mentavamo niente Era la realtà Alla massima potenza Quindi da lì C'è stato il mio primo uso Cioè quindi questo Mindy Veders Un gruppo che non aveva Fisionomia E non si sapeva Che erano i componenti Eccetera Eccetera Poi attraverso Invece Il gruppo che ho avuto Subito dopo Cioè Trax Di cui ti ho messo oggi Il risoponto finale Invece in cui Si sapeva esattamente Che erano i componenti I componenti Venivano trattati Cioè Tutto il progetto Come se fosse Un prodotto industriale Cioè quindi Pur essendo una cosa Molto underground Molto povera Quindi per niente Industriale Per niente interessata In qualche modo Alla vendita Di prodotti di massa Eccetera Eccetera Però funzionava In modo tale Per cui 01 Ero io Che avevo inventato Il progetto Cioè un numero Tassinati da un numero C'era il mio nome Più un 01 E vai avanti così I progetti Invece avevano Un numero formato Da 4 o 6 cifre Che era ad esempio 0899 Facciamo adesso Che non esi Che starebbe per Agosto 8099 Quindi 0899 Questi erano Cos'erano i titoli Ibrani Sì Questo era Il numero identificativo Come se fosse Un catalogo Di merci Di una dita Così Un numero identificativo Qui c'era un titolo Che doveva essere Tecnodev Per esempio Eccetera Quindi c'era un titolo E questo identificava La data In cui usciva Questo oggetto Questa produzione Eccetera Quindi Così come Mind Invaders Ad esempio Non si proponeva Di non produrre Assolutamente niente Se non la propria immagine Trax invece Si proponeva Di produrre Moltissimo In tutti i campi In tutti i modi Eccetera Qui ha prodotto Cassette Cartoline Eventi Performance Eccetera E' andato L'altri sette anni Ha avuto qualcosa Come 500 collaboratori Di vario genere Insomma C'è chi magari Ha lavorato tantissimo Chi invece Magari Ha diventato La madonna cartolina Però Sono state quelle volte 500 persone Un po' di tutto il mondo Insomma Il mezzo Che si comunica È sempre il computer No In quei tempi Non c'era il computer O ce ne erano Molto pochi No Cartoline Arte postale In pratica Quindi mail art Oppure Non c'è il caso Telefono Quindi Mail art Quindi c'entrava La mail art C'è un percorso Parallelo Con la mail art Questi sono progetti Che interagivano Sia con la mail art Ma non In maniera stretta Solo mail art Ma interagivano Anche con il network Della musica Autoprodotta Eccetera Poi si arriva Agli anni 90 Quindi chiuso Questo progetto Che è stato A cui hanno contribuito Gente come Massimo Giaccon Ettore Sorsas Jr William Barr Per dire Anche William Barr Sì sì Anche Genesis Pioris Sai quello Dei Caghi TV Alcuni personaggi Anche famosi O alcuni anche Che sono diventati In seguito Ad esempio Con Trax Abbiamo fatto un disco Che si chiamava Extra Trax Che poi Era solo spostata La X Da dietro A davanti Aveva contribuito Un personaggio Che era sconosciuto Da noi Ma era Un famoso cantante In animarca Per dire Come fosse Intanto diventato Per cui A un certo punto Trax Abbiamo iniziato A chiedersi I dischi Con questo qua Cioè è diventata Una mania collezionistica Appuntivo Abbiamo iniziato Perché era Una cosa Introvabile Avete fatto Un disco Sì sì Abbiamo fatto Diverse dischi Abbiamo fatto Con trax Vinili Vinili Allora sì I finanziamenti I finanziamenti Autoproduzioni Queste erano Tutte cose autoprodotte Si vedono Qualche disco Poi si stiava su Quattro soldi E facciamo Qualcosa Altra Inizia Patronizzare Con la tecnologia Sì ma poi Ma tecnologie povere Quindi niente Sì Sì Sono scatolette Fatte A mano Insomma Confezionate Con una saldatrice Sei sacchetti Di plastica Con una saldatrice Quindi tutte cose Autoprodotte Che ironizzavano Comunque parodiavano In qualche modo Le tecnologie produttive Il mondo dell'industria Insomma C'è il mondo del management Eccetera E c'era una parodia In questo senso Quindi Allora Qui stiamo facendo Un percorso Parallelamente A questo percorso C'era un percorso Mio e personale Questa è una parentesi No? In cui producevo immagini Come Pier Mario Ciani Produco immagini Però C'era C'erano questi due Percorsi miei Sono da un lato Produzione di immagini Quindi come fotografie Cioè quindi qualcosa Che dall'altro Invece si produceva Più che altro Concetti Idee Si creavano situazioni E sono questo tipo Di progetti collettivi In cui Che ho creato O a cui ho partecipato O a cui ho partecipato O a cui ho partecipato Anche adesso Sto parlando di quelli In cui sono stato L'ideatore O In particolare Stickman Torniamo lì Allora quindi Stickman è nato nel 91 Quindi come progetto Che all'interno Nel nucleo della mail art Del network Della mail art Spingesse L'uso dell'adesivo Ci si voleva proprio Utilizzare l'adesivo Perché 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 Intanto che Ci si comunica Trammette Attraverso le lettere Le cartone È bellissimo Però è comunque Una comunicazione A due Quindi in qualche modo Ha dei limiti Che Cioè è bellissimo Il fatto di comunicare Tra due persone Però ha dei limiti Nel senso che Il tuo lavoro Lo vede solo Un'altra persona E basta A meno che Non ne fai mille Mentre invece Con gli adesivi E io spingevo Proprio in questo In questa prima serie Di adesivi Che ho fatto Perché ho fatto Del catalogo L'idea era Che venissero attaccati All'esterno Fuori Cioè per cui Venissero visti Di più Cioè servissero proprio In qualche modo A essere scambiati Per degli adesivi Pubblicitari Che però Quando poi Uno si trovava lì Diceva Ma che pubblicità è questa Non è nessuna Cioè non pubblicizza niente Come mai Un adesivo Che non pubblicizza niente Oppure Che Cambiava di senso Delle immagini Che già esistevano Oppure Che In qualche modo Dava Delle indicazioni Sbagliate Insomma Quelli che vengono Definiti In un libro Che si chiama Non è vero Vengono definiti Adesivi disordinanti No? Non so se hai visto Questo libro Che si chiama Non è vero Siamo su Roma E tra l'altro Siamo anche citati Come si chiama il libro? Non è vero Edizioni Odratec Tra parentesi Guarda che Poi lo faccio vedere Faccio vedere Sì Comunque Stica Non ha avuto Una diffusione Prevalentemente All'interno Del network Della Mila Chiaramente Gli adesivi sono stati attaccati In giro Eccetera eccetera Anche in perfono Scopatoria Non so Nelle Marche E cose così Però sostanzialmente Ha avuto una diffusione Di questo genere No? All'interno del nucleo Della Mila Poi c'è stato Poi c'è stato il progetto Blissett Invece che è scoppiato A tutti i livelli Ah è lì che io mi aggancio Perché l'ho subito Fin all'inizio Per caso Lavorando Radio De Fullane Avevo sentito La televisione in cui si parlava Sentire interdotti Sì E' curata da Gianni Emilio Simonetti E' altra gente Non so se ti ricordi L'Arcano Degli anni 70 Sì Ma ho molti libri L'Arcano Gianni Emilio Simonetti Era l'Arcano In pratica C'era lui Il motore L'Arcano Guido Gianni Emilio Simonetti Emilio E' ancora adesso Suona libri Sì però adesso Ha cambiato proprietà E adesso fanno Quell'altro La roba del musicale Sì Ottime L'Arcano Sì E niente Questo qua è curato lì Blissett Ha una stanza Tutta sua Cioè è uno dei dieci Perché ci sono È diviso Deci sezioni Undici Undici sezioni Questo è il territorio Qui c'è Fluxus C'è l'internazionale Stazionista C'è Cobra No E una sezione È Luther Blissett Sarebbe i nomi muti Ma di fatto poi Più che altro Luther Blissett E la curiamo io E Roberto Bulli Che è un altro Blissett No Di queste parti No Rit Bologna È uno È diciamo così Il Blissett Ideologo per l'eccellenza Anche se non È un libro Che ha scritto Q Per esempio Comunque Le riviste anche Eh beh no Sì non è che lui Ha fatto Perché poi È sempre un lavoro collettivo Ma diciamo che lui È uno Tra i più attivi Fin dall'inizio Insomma Comunque Questo è il mio percorso Dei nomi multipli Una cosa che mi interessava Com'è la storia del libro Pubblicato da Linaudi Che mi raccontavi Q Cioè quello si chiama Q Ma cosa era successo Dei diritti dottore Mi raccontavi Dei diritti dottore Che non potevano essere Date lassù Perché non potevano essere Ah no Sì 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 Certo Allora Parentesi A parte il fatto che Un punto Me l'ha detto Sto programma Ancora Deve uno contattarmi Quello dell'ufficio Delle Linaudi In pratica Loro vogliono acquistare I diritti Mi ha detto Top Perfino una guerra psichica Che è il libro di Blesse Che abbiamo pubblicato noi Come casa editrice No E loro vogliono pubblicare Come si intitola Questo libro Top 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 Perfino Ah Top E la guerra psichica Prendi studia Questo qua Questo l'abbiamo pubblicato noi Questo qui Questo è l'altro postale E lì dentro ci trovo Un'altra coppa Quello su di me Questo qui come va Esattamente Per male c'è anche 104 E ecco qua Ah no Chi parlava di Trax Sì Si parlava più che altro di Trax Ma c'è anche qualcosa Sui adesivi Sotto qua Adesivi 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 72 attacca latte Per cui puoi prendere Sì Qualche spunto Anche qui Che io devo avere Si ce l'aveva in vendita Ad esempio lì All'anno fa Ma era di un defullare Anche lì forse Si Si vedi qui c'erano Quattro pagine Sugli adesivi No Tra l'altro Praticamente Del progetto Stigli Ma queste sono tutte le zive Che l'ho fatto io Metto qua Sì Con il segnalato A caso L'altro Tu hai messo dentro qua Tu hai messo anche Quello Tu hai messo il segnalato Uno La colonna La colonna Che è più Mario Ciano E l'altro Che è arte Un'altra cosa dunque Allora Si parla di Inaudi Qui stiamo però Stanno andando avanti Qua Si si Ma è un'ora Scusa Poi ne ho un'altra Lì No A meglio così Sì Non è una roba giornalistica Io la uso solo Per ricordarmi Allora Anche perché non ho D'idea Precisa Lutern-Lisset Ah si C'è anche un cd Di Lutern-Lisset Che ho trovato Su a Topolonna Si Che ho comprato Che non ho ascoltato Solo all'inizio E cos'è Che mucchi di che No allora Lutern-Lisset Ha fatto questo cd Che sono musiche da film I film non esistono Di fatto No Si E Il gruppo Che eseguisce queste musiche Si chiama Le forbici di Manitù Che parte da un'altra persona Che si chiama Vittore Baroni Con cui collaboro da anni Anche lui Un maniaco Dei nomi multipli Di questi progetti collettivi Eccetera No Adesso Lutern-Lisset Si C'è questo libro Food in Audi E' già stato stampato E' uscito Eddio Questo è arrivato Finalista Per il mio strega Cora lì è una E chi l'ha scritto L'ha scritto 4 persone Ma di cui parla In quell'articolo lì Che hanno dovuto Però Mettere il nome Buon po' Lo vado a prendere Sì Qui c'era Per esempio Qui ti fa un po' La storia di Bli Se volendo C'è l'indice Di Libri del Mese Di Luglio-Agosto Quindi doveva esserci In edicola Fa Libri del Mese Libri del Mese Q Nemice dello Stato Di Lutern-Blisset Con una tessuola Allora questo qua Praticamente Inizia E poi fa Tutta una specie Di cronologia L'Utern-Blisset Del Mese Dello Stato In cui dice Per esempio In Italia La sigla Viene ripresa In primi anni 90 Prima dal gruppo Flurano Facente capo Pier Mario Cianni Gruppo Flurano Fondatore La casa di Trisala Di Bertiolo La quale si deve La pubblicazione Nel 96 Di uno dei primi libri Qui il gatto Numer-Utern-Blisset Che è questo qua Dopo una serie Di panflet La diffusione Paralitoriale Di proprietà Di proprietà Di proprietà Di proprietà Cioè qui Scrive tutto Quello che sono stati Qui ad esempio Parla la storia Dei propri antecedenti Blisset La raccontata In Wormer Castelvec In Mind Invaders Che è del Castelvec Si chiama Mind Invaders Che era come Il mio gruppo iniziale Infatti all'interno L'autore Che non sono io Ma è uno Sono quelli lì Quelli che ha scritto Q Cioè Cioè Praticamente Ci ringraziano Me e Vittor In qualche modo Ci danno Un dovuto omaggio Lo chiamano Relativo appunto A questo Per questo lavoro Insomma E comunque Poi qua Continua Il Blisset E parla proprio Del romanzo E eccetera Perché qui finisce Un po' La cronologia E la bibliografia Sì quindi Questo qua Se credo ti sei O se no Io ho delle Fotocopie No no Vado da Taranto No però Sì però Quello lì Diciamo così È un discorso Regato a Bliss Mentre io presento L'avore di Stickerman Lì alla Sì ho capito Che mi serviva Accennarne Nell'articolo Per la cronologia Allora Stickerman Adesso però C'è un'altra parentesi Che dobbiamo aprire C'è un'altra parentesi Che dobbiamo aprire Sì Sì Aspetta un attimo Una volta Hanno iniziato Nel 95 L'associazione Stavolta Autor E hanno questa scadenza Ha fatto un piano Quinquennale Che scade Quest'anno Cioè che scade In aprile Il prossimo anno Quindi in pratica Siamo nell'ultimo anno Del Allora Io ho provato Ho progettato Questo intervento La Biennale Come mio contributo Diciamo così Della sezione Flurana Appunto Della Sessione Stavolta Autonoma È stata così Una cosa improvvisata Insomma Andata quasi per caso Anche se sono Li sento vicini No? Perché E non a caso Cioè io conoscevo Questa loro attività Fin dall'inizio E Non a caso Ha Ha È la stessa sigla Che usiamo Come casa di Tricene Ecco Ecco Sì 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 E dovevamo anche pubblicare Il loro primo libro Quello che è stato Anche tu astronauta Che è stato pubblicato Per Castelbecki Perché non avevamo Le possibilità economiche Di farlo Ma eravamo Diciamo così Inevitabilmente Degli editori Degli editori Degli editori di astronauta Autonoma Insomma Solo che Abbiamo dovuto Rinunciare Per Perché non potremmo Fare E continua Questo progetto Sì questo progetto Ha fatto un grosso incontro A Londra In giugno Subito dopo La Biennale C'è stato Questo grosso incontro Internazionale In cui c'erano Varie conferenze Musica Eccetera Quindi è un gruppo Internazionale È un gruppo internazionale Sì sì Anche se in Italia Forse È dove si fanno le cose Migliore Perché in Italia Mi sono definito Artista astronauta Autonoma Tu provavi Ecco Anche l'associazione Friulana È di artisti Astronauti Autonomi Perché Abbiamo mandato via Un testo Che poi magari pubblicheranno Quella c'era In cui definivo Perché Facevamo gli artisti Eccetera Eccetera È uscito un libro Appunto Che si chiama Come stanno Che tu Astronauti Perché stai vecchi Che spiega Un po' Di cosa si tratta E dopo ogni tanto Abbiamo fatto un intervento Bastante interessante A Rimini Durante Night Way Era nel programma Sabato Nel programma Artistico Insomma E poi fanno Altre interventi In varie volte Comunque È una cosa Ovviamente minore Rispetto all'Other Blitzer Che ha avuto Successo A loro E continua ad averlo E continua ad averlo Anche grazie a sto libro Che ha scritto bene Che è andato in finale A premio strega Insomma Quindi Sì In pratica ha vinto A Dacia Malaini Ma loro sono arrivati quarti No? Cioè quindi Non è una cosa da poco Aveva venduto inizialmente 30.000 copie E adesso stanno traducendo In inglese Portoghese E francese Mi sembrano Quindi venderà Un bel po' di copie Anche di là Insomma Quindi sta andando bene Ha fatto contratto Stanno scrivendo Il secondo libro Stanno scrivendo il secondo libro Come è mandato Cultura e spettacoli Potremmo essere 500 Sono nel 2000 Sì Certo Nota il tipo Di dire Non sono le quattro righe Ho citato Un esame Ma tipo Schifo Non le paginate Nessuno E ne ho altre Adesso mi rimanda Anche Mi stava cogliendo Ecco Allora All'interno della mostra Sempre per Vediamo Stiamo Sì All'interno della mostra All'interno della mostra Espongo Gli adesivi Fatti per Tutte le blesse Cioè Prima di tutti Questo Questo qua Che è diventato Famoso Perché Tutti Molta gente che incontrano Dice Ah sì Ricordo Perché alla Biennale Quattro anni fa No Nel giorno Della preinaugurazione Si erano attaccati Adesivi un po' Dove Tutta Venezia Per tutta Venezia Qualcuno ancora Mi pare Sì C'è ancora Infatti Magari Sbiadito Avevo la porta di casa mia Attaccato L'Uterblissert Ah sì Sì Quando abitavo In Via Alessandria Che era l'adesivo B faccia Con due frecce E ho Sì Adesso lo riesco a trovarlo Allora I primi adesivi In assoluto Sono stati questi qua Che era la faccia grande L'Uterblissert Che poi C'è come fondo Che per me è tagliata E poi c'è L'Uterblissert Non è in vendita Questa è girata Moltissimo a Bologna Ce l'avevo fatto io Sia il logo Che gli adesivi Eccetera Ed erano due, quattro, sei, otto Adesivi No? Che poi Avevano taccacciato Bologna Questi adesivi Questa è quella invece Che è girata molto A Venezia No? Sì Questa era Quella che avevo davanti a casa mia Ecco A Venezia No A Venezia Quindi Quindi Cioè Anche Perché Sempre Era di ogni forlana Il veicolo No? No Perché poi c'è Concontato Lì con loro E In un'occasione Della Biennale E' stato Fatti Qui c'è In parte Un rosaconto E' stato Fatti diversi Interventi Fasulli Tipo questo L'Uterblissert Corpi Ubiqui Identità Mutanti Che figurava come Come convegno All'Accademia Di Belle Arti E aveva una particolarità Questo volantino Grazie al computer Che ti permette Di fare determinate cose Praticamente Ogni volantino Aveva dei nomi diversi Cioè Si cambiava Un nome per ogni volantino Per cui Rimanevano Due Quattro Sei Tutti rimanevano uguali Al volantino precedente Ma man mano cambiava Per cui Non c'era un volantino Con gli stessi nomi Molti erano nomi Inventati Storpiati Alcuni veri Alcuni no Eccetera Questo volantino E' stato distribuito Il giorno dopo Mercoledì 7 giugno Quindi in modo tale Che era impossibile Che uno Riuscissero ad andarci Per cui uno poteva dire Ah cavolo Mi sono perso Questa conferenza Però nessuno Poteva andare E sapere Se fosse stata effettivamente O meno questa conferenza Questa è una delle 5 o 6 attività Che sono state fatte All'esterno Della biennale Durante i giorni Della preinaugurazione Che fanno la biennale Un'altra E' quella che aveva messa In mostra anche lì Abbassando del grappa All'interno di una sezione Che parla delle simie artiste Ed era appunto La simia luta L'Otta Scritto Che esponeva dei quadri Alla galleria Amplenair Che non esisteva Ma era solo Un piccolo campiellino Un piccolo angolo Dentro Venezia Insomma In cui veniva definita Galleria Amplenair Carle Longa di Santa Maria Formosa Non mi ricordo Qual'era Insomma Altra operazione Di Gliss Sempre all'interno Di questi giorni Di questi giorni Da prima evoluzione Della biennale Era La video installazione interattiva Quella che poi aveva presentato Anche a topolò Non so se l'avevi vista Praticamente Era una stanza chiusa In cui c'era uno specchio In cui ti guardavi Si l'avevi vista Sei l'Uterblisser Quindi C'era un testo Che parlava così Del doppio Eccetera eccetera Quindi Il nome roboante Viene installazione interattiva Poi uno va dentro E trova un bellissimo specchio Che riflette la tua faccia Insomma Si si l'avevi stare su La casetta Che stanno restaurando Si Ecco Prima che ti studi il fatto Cos'hai fatto? Ormai ti sei canalato No Ho sempre avuto Credo che fosse stato Sor Maria A dirmi Ma che bezzini Che faceva l'asilo Per Maria No Cioè lei Per tanti anni Gli occhi che incontrava Dice Ah mi ricordava di te Perché l'asilo Facevi dei bezzini Quindi la causa di tutto In qualche modo Può essere Uno stimolo Sor Maria E chi è Maria? No Sor Maria Era la suora Che Che aveva l'asilo Insomma Io ero piccolissimo Lei aveva avuto vent'anni E' morta Quindi avevo questa predilezione Per Per il disegno Non sono mai stato bravissimo Cioè un disegno Magari era un pochino Al di sopra della media Ma Cioè non eccezionale Però ho sempre avuto Una predilezione Per i libri Per l'arte Eccetera Eccetera Tutti giocavano a pallone Io Non ce l'ho mai visto Allora Sì dopo Che lavoro fai Oltre a questo Lavori solo Nel campo dell'arte No 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 Ce ne faccio proprio Un lavoro che non c'entra niente Forse possiamo Cioè Io In qualche modo Amministro L'azienda di famiglia C'è che è una piccola azienda Cioè è un forno C'è un pane Non è che sia Anche me no L'azienda di famiglia Uno può pensare Sai Mille dipendenti Qualcosa del genere Magari La tua attività Attualmente Faccio consulente Dell'Officine Creativa Della Venezia Giovene Comune di Udine Poi ho l'attività editoriale Anche se piccola Insomma anche lì Uno pensa Sa fare l'editore Sì Contra in audio Pronto a edizioni No Che naturalmente Sì 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 Poi capita di collaborare Appunto con altre amministrazioni O istituzioni Culturali Insomma In varie attività Come l'Agenzia Gioveni Come va? Eh Con l'Agenzia Gioveni Va bene Chiaramente Bisogna tenere presente Che un conto Sono questo tipo di provocazioni Anche questo ad esempio Il fatto che Io magari Facessi Faccio Non so Usato grafico Quando Quando si fanno Degli interventi Con gli adesivi Gli interventi Che sono di tipo provocatorio Comunque Sono di fuori dal mercato Per cui sai Che questo tipo Di attività Sono attività A perdere Nel senso che Ci metti dei soldi In cuore Se va bene Se c'è l'istituzione Se c'è l'istituzione Magari Ti possono al massimo Sponsorizzare Ma al di là di questo Non si va Non sono quadretti Che si vendono Insomma Quindi Questa è un po' La differenza Come hanno spiegato Anche in vari libri In varie conferenze Però ci sono I collezionisti Ci sono i collezionisti Sì Però Sì Anche lì Sono pochi Tu ti reputi Un collezionista No No Perché il collezionista È un po' Malato Come diceva Roberto Bilare Il portfolio Delle tue attività Sì Ma l'ansia Capisci C'è l'ansia Di avere Quello Quello Poi una volta Che ce l'ha Magari Non frega niente Non c'è l'ansia Invece Se una cosa Ce l'ho Non ce l'ho Non me ne frega Pi tanto Insomma Non è Se ad esempio Chi Sponsorizza Non un unico Ma comunque Diciamo così È un mecenate Che sponsorizza La mostra Che viene fatta A Bassano A Bassano Sì E chi è? Questo è un certo Buonotto Industriale Tesside E lui Ha la passione Ha la passione Colleziona Poesia visiva Fluxus Eccetera Sono 60 anni Ha i soldi Sì ma questo è uno Dei pochissimi Collezionisti Di Fluxus Di questa area Eh se avrei fatto I soldi L'avrei fatto anch'io Sì Specialmente L'internazionale C'è situazionista Eh? Specialmente Il materiale C'è Internazionale C'è situazionista Sì ma sono Dieci persone In Italia Che possono avere Questo materiale Ad esempio Uno che ha un materiale Insicuro E questo Gianluigi Simonetti E lui Sa dove procurarsi Materiale Perché probabilmente Anche Bonotto Perché Gianluigi Simonetti In qualche modo L'ha fatto parte Anche C'è un altro italiano Uno che era Uno degli iscritti Ufficiali Anzi Una dei due Che ha finito L'internazionale Stazione di Sanguinetti Mi sembra No? Sì Dallo Sanguinetti Vai Socca delle cose Perché conosceva bene Iorn Interesco Dei libri di Baye Ho visto Dei libri di Baye No parecchi libri Perché siccome abbiamo fatto Dei libri assieme Che l'ho conosciuto L'abbiamo fatto E poi a me è sempre piaciuto Baye Sia per l'opera pittorica Diciamo così Sia anche per Lui come saggista Mi piaceva L'aveva pubblicato Dei libri di Baye L'abbiamo fatto Fisica L'abbiamo fatto Sì E ho Sì Ho molto materiale Dove c'è molto materiale Su Jair Per esempio E Però Non l'avete trovato ancora Comunque non credo Che Baye Dischi Di materiali Che ha Per lui Se mi avrà proposto Tipo Ha detto Ma ho tutto Un epistolario Bon con Yor No? Ma Lui prima o poi Troverà qualche comune Che le pubblica Gli fa un grande Mega catalogo Capisci Mentre per me È un po' più Difficile Siamo riusciti A fare C'è una mostra Mi pare Adesso Chi? Baye A Milano Mi pare Con Delle Personnaggini Legno Ah Sì Fa Spesso mostre Insomma Comunque Sì L'ho conosciuto Una diversa volta Che da sua Quindi abbiamo pubblicato Due libretti A Baye Quindi La casa vicino La discoteca Cosa In provincia di Como Cosa No Varese Varese Che ci si lamentava Perché aveva la discoteca Ah Aveva una cosa intervista Sì 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 Ma vabbè A casa Il suo di Baye Ha visto il nostro palazzo grassi di Baye Di diversi anni fa Bellissime Ma era solo lui No Sì Solo lui Sono il suo Baye E io ero ancora studente Forse Tant'uno Tant'uno Tant'adue 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 Con itinerali Medaglie Per le cornici In bronzo Sì 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 No No Inizia da voi Especialmente i mutili A me sono piaciuti i mutili di Baye Perché non sono Più Più Sono molto ricchi Come lavoro L'ho vista Prima che facesse La morte Della narco Copinelli Quindi Prima Del 69 Alla Biennale Alla Alla Sograccia Eh beh Gli anni del suo maggior successo Il suo maggior successo Che ero L'avrò Ottimo Allora Utilizzava le stoffe Va bene No Questo è interessante Digo Cioè Chiaramente Non si può andare là Sempre Di un giorno Però Sì Gli ho preso delle cose Perché poi lui ha lì Delle stampe Delle grafiche Perché i suoi lavori Originali Pasticchia Sì Qualcosa Io Ho avuto anche io qualcosa E comunque anche La cravatta Sulla vasca da bagno Sai che c'era la cravatta La vasca da bagno Con la cravatta dentro Che galleggiava Ah sì Sì Non ti No Enrico Bai Degli anni 60 Così Comunque Mi ha detto Anche disponibile Perché lui si è sempre Dichiarato anarchico No E c'è un gruppo Di anarchici Di mestre C'è anche di mestre Dato a dire così Che avevano fatto Un'operazione Non mi ricordo Adesso farò cose Eccetera E sono andati da lui E gli ha dato dei lavori Gratici Insomma Perché essere geloso Perché essere geloso No 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 Non so Dicevo che è generoso Da parte sua Tantissimi Ti mandano a cagare Insomma Penso che Origini di tutto questo Si storicamente No storicamente Non saprei che dire E cobra Tanto l'abbiamo nominato Sì L'internazionale Stazionista Di nuovo Ovviamente Anche lì Il fluxus L'arte postale Si cose Che più o meno Si può andare indietro Fino a Fino A Duchamp Ovviamente Sì Questo è un po' Il filone Adesso mi piace Barbara Kruger Mi piace Sì Queste persone Che lavorano Con la parola Comunque Ma non è solo Il fatto di usare La parola Con delle frasi Eccetera Il fatto anche Di intervenire Sulla città Sulla realtà Cioè Quindi fuori Della galleria Fuori dal quadro Tu pensi Che la gente Capisca Questo tipo Di comunicazione Oppure Rimanga per Quale Perché tu dici Che questo È per il popolo Per la gente Questo tipo Di arte No Sì Cosa sempre Fare il distinguo Anche Spiegare forse Meno Perché Attualmente Il mondo dell'arte Ti chiederanno I miei Consistenti No ma attualmente Il mondo dell'arte È un mondo a parte Nel senso che Viva di fuori Dalla realtà Cioè È fuori Dalla realtà Non ha contatti Con la realtà È una realtà A sé stante Che vive Di Così Più del passato Che non è presente No Cioè Quindi Ha dei valori Che non sono più Corrispondenti A quello che Effettivamente c'è No All'interno del mondo dell'arte Quindi Che comunica soltanto Agli addetti ai lavori No E quindi E non c'è Non c'è nessuno In grande Ma neanche Cioè Sono solo Addetti ai lavori E anche quelli sono pochi Per cui tu vai in una galleria Non troverai mai Il pubblico No Troverai che c'è Il nostro politico Ci saranno Tutti interattisti No E c'è Il giornalista E basta Tu vai in una galleria Vieni a una galleria E fai questo Ecco Allora Rispetto a questo Che io dico Comunichiamo Comunichiamo col popolo Comunichiamo al di fuori Comunichiamo con le masse Non chiaramente Non ho la pretesa Che tipo di comunicazione Che faccio io E sia una comunicazione Con la gente civile Con la gente civile Con la gente pubblica Un bau di televisione O Quindi Che non arriverà O adesso è più open Insomma Quindi Questo tipo di Di operazioni Sono più commerciali Più allargate A tutto tondo Eccetera Eccetera Le mie Diciamo così Sono allargate Al di fuori Di quello che è La distretta cerca Nel mondo dell'arte Quindi Hai una comunicazione Che potenzialmente Potrebbe andare al di fuori Potrebbe essere disordinante Come dicono in questo libro No O In qualche modo Può creare Delle distrazioni O stimolarle Eccetera Eccetera Dipende dal contesto Ecco Una mia intenzione Però Penso che per molto tempo Rimarrà intenzione Era quella di fare Interazioni urbane No Quindi Però Mi sa che va già a rischio Di fare interazioni due Forse sì Forse no Spapire l'assessore Tra parentesi Ora Riuscire a fare interazioni urbane A me interessava Cioè Un'operazione In cui ci sono Diverse decine di artisti O non artisti Cioè Come un po' In qualche modo Può succedere Aiken Nunca A Topolo Cioè In situazioni del genere Ma fatto in maniera Un pochino Più 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 energia E un posto Più grande Tipo Udine E' logico Passano in osservate Chi va lì Fa fatica A distinguere C'è troppo rumore Che disturba questa cosa Ecco Riuscire in qualche modo Ad attenuare questo rumore E Al posto Dei cartelloni pubblicitari Mettere altri tipi di cartelloni Più creativi Al posto delle scritte Hai l'altro progetto Le scritte del museo Rembrandt in castello Sì Sì Hai l'altro Che c'è scritto sotto Mostra da visitare Mostra da non perdere Da non perdere Venghino venghino Signori Mostra da non perdere Perché le altre mostre Che fanno in castello Ne va della dita In generale Mostra da non perdere Cioè quindi Anche quelle scritte luminose Lì Se le utilizzi Con delle frasi Che magari possono essere Comparcive Ma Voglio dire Perché se metti Una frase del genere Attento che ti cadono Le mutande C'è uno Ma cosa sta scritto qua Ma dico Per una frase Che mi viene in mente adesso Sì Sì Oppure Guarda nello specchietto retrovisore Che ti stanno inculando Metti il specchio Metti la presa Cioè capisci che Diventa un pochino Sì Ti disturba un attimo Poi la gente si chiede Cos'è Cos'è Una cagata È uno scherzo Cosa c'è Però comunque Questa cosa Influisce Forse più di Rembrandt Perché Rembrandt Al di là di questa Mostra da non perdere Ma quanta gente Ci va in un giorno A vedere Rembrandt Ma non lo so Sì Tu prendi via le Venezia No Sì E le macchine Che continuazioni C'è solo via le Venezia Questi sono gli altri ingressi No Vedono i cartelli No Ma lì ci sono Mille persone Ma che mille Di più Cioè in continuazione Macchine che passano Da questi cartelli Da Rembrandt Ci saranno Una persona Allora Che ci va In un'opertura Quindi c'è proprio C'è proprio Uno stacco incredibile Tra una cosa Che viene letta lì E una Una mostra E anche questo Purtroppo ieri Non mi è venuto in mente Anche con l'assessore Cioè di fargli prendere Questo lavoro Dico sì Ok Voi ci dà Dite che spendiamo soldi Che non abbiamo Magari abbastanza Ma state vedendo Che i soldi dati a noi 5 milioni Per la roba dei timbri No Tutto compreso La stituzione del genere Eccetera eccetera Quanto spendono per Rembrandt Quello dei timbri Ci va un sacco di gente Partecipano Vengono Vedono Durante Trinbri Dock Eccetera eccetera Di da Rembrandt Quanti ci vanno No? Sì E pagandolo anche il biglietto L'assessore Che ti ha detto Come sono i rapporti Con l'amministrazione Attuale? Non lo metto Però Te lo chiedo Ma non lo metterò No Ma c'entra questo Con lo sticker Ma che c'è Penso No Io volevo parlare Di te Dopo la mostra È una cosa A parte Che è Sì Però collegherei Appunto Tu fai Un'introduzione Che faccio questo Questo e quello Ma poi In centrale Sarà Siccome sarà Una cartella e mezza Perché Se no salta la pagina No E Sarà Necessivamente Castigato Tutto Sì Sì Non so È difficile Restringere Bisogna sviluppare Un aspetto No Oppure No Va sviluppato Questo di sticker Che poi corrisponde Con Quello che ci mostra No Quindi Diciamo Quello Stringere C'è Sticker L'uso Degli adesivi L'uso creativo Degli adesivi Sganciati Dal discorso Mercantile Publicitario Sì Sì No Collegandosi Alle altre mie Produzioni E alle altre mie Identità O in cui Partecipo a progetti Progetti di nomi Multi E progetti Collettivi A scopo Creativo E artistico Allora Allora Niente 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 Altre cose Sì Una cosa Che mi ha chiesto Quello Degli adesivi Tra Ma Perché Riatacca L'arte Cosa vuol dire No E questo Se questo È Vox Populi No C'è la curiosità Vittoria Che uno Chieda Appunto Questa Degli adesivi Se ne vuoi ancora Tra l'altro Degli adoro E porterai su Ne porterai su Degli adoro Sì C'è voi Cosa fate A parte Otradeck Che lo inviate A tutti i soci No Sono 1500 coppie Non li inviamo A tutti i soci Perché In quel periodo Lì In cui Espirai tu Cominciano già Le le lezioni Avevamo già 2000 iscritti Quindi Sparisce Sparisce No Mettiamo lì Cioè Noi siamo praticamente Un ente Di distribuzione Involontariamente Ma siamo Uno dei più grossi Enti di distribuzione Non abbiamo mai provato A distribuire Cose A pagamento Anche perché Siamo un'associazione Di volontariato Non potremmo Non metteremmo Neanche Nelle cose Nelle agevoluzioni Previste Insomma Per queste cose qua Però Lì All'università Di Rivelletta Passano Specialmente I primi mesi 3000 persone A settimana Sicuramente Una distribuzione Maggiore Del Friuli Di racconto Noi faremmo Tiratura Di 1500 Copie Di questo Numero Tra l'altro Il numero Sul quale Ho fatto La valutazione Degli artisti Sì Ho fatto La valutazione Degli artisti Quelli che conosco Io Ho messo anche te Dunque ti ho messo 500.000 lire Etichetta Ti va bene Scontrati Due pezzi di uno No ma è una cosa Così Sai giù le fasce laterali Di Overe Dove scrivete Salve Claudio Moretti Comunque lì Se vuoi Scansionare Perché ho pensato Adesso io non so Non mi ha giusti un computer No Per questo caso Vuoi scansionare Ti servono Che è più comodo Senza che poi Magari Scansionare in che senso No Scansionare in che senso Le immagini No No Tu mi devi sì Dare i dischetti Che Andremo noi In stampa I primi di settembre Ci vediamo Mi devi dare i dischetti Con le immagini Che sceglieremo Sono Mi pare dieci Uno Due Tre Quanto Quanto Dieci Dieci immagini Se ne è abbastanza Perché avevo Un quadro In un cimico In un cimico In pratica Le hai già scansionate Queste qua Erano tutti Erano dei stickerman No I dentini In un cimico E sono Queste facce Qui Qua Sì Sì E' 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 Poi riprenderemo, adesso io faccio mettere tutta l'acqua, poi anche altre cose, poi riprenderò gli sposti in davanti. Sì, sull'onda, faccio l'onda, faccio l'onda, faccio l'aspetta. Sì, questo è un'altra cosa che fa dire per quello che è possibile uso. Mi ha detto la cosa, Anna Lombardi, che tu avevi fatto con Beppe Rocco la mostra a casa sua in via Nimi, Paedi, Nimi. C'era lei, Beppe Rocco, Scuoli. C'era la fotocopiatrizia, no? Scuoli, sì. Sì, io mi ricordo di averci stato, di averci comprato roba di Beppe, e mobili, perché lui doveva andare via, doveva cambiare casa. No, lui aveva fatto una volta lì, aveva fatto delle cose tipo sculture che sembravano morlotti, no? Non mi ricordo, comunque, mi ha detto l'Anna Lombardi che ha trovato le fotocopie di fotografie mie, sai che c'è la fotocopiatrizia fuori, no? Sì, sì, sì. No, avevo fatto io, non c'è la... Hai messo la fotocopiatrizia. C'è, l'operazione della fotocopiatrizia era un lavoro mio, quello lì, che era... Però le ha lei le fotocopie. Sì, questo vasco, che è un... C'è una cosa che ho fatto, che l'ho fatto come percorno, diverse volte. Se faccio vedere, perché c'è il... C'è un'altra cosa, l'altra cosa, l'altra cosa, l'altra cosa. Questo era nel 87, ma l'ho fatta in varie occasioni. Sì, questo dice, ho come un progetto Trax, qua c'è tutto segnato, si è fatto, no? Sì, ho come un numero, un titolo, un po' quanto. Va bene. Sì, io ti ho proponato, poi la cosa è pensato che ho detto ora, no? Sì, io ti ho proponato, poi la cosa è pensato che ho detto, no?